Questa mattina è crollato il ponte Guastacconcio sulla strada provinciale 97 nei pressi di Paglieta. Era stato chiuso in seguito al cedimento del pilone centrale, numerosi sono stati gli allarmi lanciati dai cittadini residenti nella zona. Le pessime condizioni in cui versava il ponte Guastacconcio sulla provinciale 97 erano note da tempo. Già il 14 dicembre scorso la provincia ne aveva predisposto l'immediata chiusura. La struttura già pericolante con le ultime ondate di maltempo è andata ulteriormente degradandosi fino al crollo di questa mattina avvenuto intorno alle ore 9. Il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani aveva anche annunciato l'affidamento dell'incarico per il consolidamento del pilone centrale che aveva subito un importante abbassamento. L'appalto per l'avvio dei lavori del ponte Guastacconcio per cui è stato ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 200 mila euro è già stato affidato alla ditta impegnata nelle opere di consolidamento del ponte per la demolizione e la ricostruzione.